Stavolta si chiude veramente, si chiude con l'abbraccio dei tifosi bianco-rossi alla squadra, tutti presenti con coach Vincenzo Esposito in testa, ma c'erano anche dirigenti, addetti ai lavori. Una grande festa qui al Palacarrara con tanta gente nonostante il pomeriggio di un giorno feriale, ma questi ragazzi lo meritano per una stagione straordinaria, culminata con il settimo posto in campionato in regular season e la conquista dei play-off. Poi quello che è successo con Venezia, lo sapete, è una squadra più forte che però ha dovuto faticare e non poco per aggiudicarsi la serie dei quarti di finale. Noi abbiamo pensato di realizzare un servizio speciale che andrà in onda martedì sera alle 21.10 su TVL, quindi sul canale principale, con repliche su Sport TVL, cioè il canale sportivo 193, mercoledì alle 14 e alle 19, poi giovedì alle 21.30. Nella speranza, e ne approfitto per ringraziare anche tutti i nostri tecnici, i nostri collaboratori, i nostri telecronisti, i nostri giornalisti, con la speranza di avervi in qualche modo servito, come deve fare una televisione locale, in questa cavalcata, lungo questa cavalcata di questa straordinaria stagione. Grazie. Grazie. Grazie.